E' di Ostia, ma da qualche anno vive a Dragona. Oggi andiamo a fare la conoscenza dello scultore Salvatore Dattolo. Da piccolo mi piaceva e da grande ho ammirato le grandi opere, quindi mi piaceva fare qualcosa anche io, anche se non sono artista, non ho studiato come arte, però mi è sempre piaciuta, fino ad arrivare a oggi che mi sono trovato a vedere che la mia cosa mi piace a me stesso più che altro, però vedo che mi piace anche molto alla gente. Qui abbiamo i Persi nel mondo, che ho fatto questa serie di sculture perché ho partecipato a un evento, cerchiamo Davide, un ragazzo che si era perso qui nelle montagne. Diciamo che quel giorno mi sono sentito un po' fuori posto, nel senso che mi sentivo fuori posto perché sembra che non mi appartenesse questa cosa, invece durante la giornata mi hanno trasmesso tutto questo, che ho detto anche io, devo fare qualcosa per queste persone che... Di che materiale si tratta? Queste sono tutte pietre di tufo e il Cristo in radica di ulivo. Qui vedo altro stile ed altro materiale, vero? Sì, diciamo, questo è Iraq 2, composto fra legno e pietra, che rappresenta un po' l'Iraq, la seconda guerra nell'Iraq, quando è scoppiata, quando tagliamo la testa ai giornalisti, però io l'ho vista in un modo diverso, vediamo che le mani sono bianche e la testa è nera, però il mio modo di vedere le cose, diciamo... Su questo legno vedo invece un santo. Sì, è un santo che è diventato santo, l'addio a Carol, che l'ho fatto quando lui è deceduto, è un personaggio che mi ha colpito veramente tanto, mi ha portato anche nel discorso religioso, perché io non sono molto credente, però amo Dio e stimo tutte le persone che hanno una fede religiosa. Ho fatto il legno, ho messo il volto di Papa Voitila, ho messo le cupole di San Pietro, ho messo l'applauso dei fedeli. In laboratorio diamo uno sguardo al futuro, perché questo è un qualcosa a cui stai attendendo in questo momento. Sì, diciamo, questo l'ho chiamato all'impapo, è quello che stiamo vivendo in questi giorni, diciamo, quindi sto cercando di fare una scultura che è in fase di lavorazione. È una specie di mappamondo, vedo, con dei piccoli pezzi che poi andranno inseriti. Sì, diciamo, ecco, devo fare tutti i personaggi, adesso sono fatte un po' di personaggi, questi che vediamo qui sparsi, e poi bisogna continuarla, è un po' lunga come scultura, però arriverò a finirlo. Uno scultore che attraverso le sue opere manifesta la profonda passione per l'arte. Da Dragona per Canale 10, Alberto Dabin.